Vigilia di campionato nel girone B di Lega Pro, il torneo di terza serie parte domani con gli anticipi del venerdì. Apriranno le danze Spal e Ascoli in campo a Ferrara alle 22 nobili decadute del calcio italiano. In seguito alle 20.45 altre due gare, esordio casalingo per il Pineto di Cudini contro la Lucchese, big match al libero liberati tra Ternana e Pescara. Un antipasto davvero succulento con sfide interessanti già nei primi 90 minuti di campionato. Programma spezzatino che proseguirà sabato e domenica e si chiuderà lunedì sera con due posticipi. Capobasso in campo domenica ad Arezzo alle 20.45. La prima giornata ha sempre un fascino particolare, dall'attesa spasmodica al desiderio di vedere in campo la squadra. Nella competizione ufficiale questi pensieri che animano gli addetti e lavori alla tifoseria. Ottimo l'entusiasmo nella piazza, la voglia di professionismo si respira a pieni polmoni in città. Un'euforia collettiva che Rizzetta vuole coltivare in prima persona con la presenza le prime due uscite della squadra prima del rientro negli States. L'arrivo del numero uno della società sarà utile anche per fare il punto della situazione sul calciomercato appena all'indomani della sfida di Arezzo. L'opera non è ancora completa, all'appello manca un tersino destro, verosimilmente un giovane e forse un attaccante. In merito alla notizia diffusa ieri nel nostro TG Sport relativa all'esonero di Cristofaro Barbato, precisiamo che la separazione è avvenuta non per negligenze dello stesso Barbato, bensì per divergenze di vedute con la società. Ottima la marcia di avvicinamento alla prima uscita. La squadra si è allenata nel migliore dei modi, senza defezioni, appena reintegrato Baldassin, che dovrà effettuare un periodo di ripresa regolare prima di assaggiare il campo. Braglia lavora sui meccanismi del 4-3-1-2, il modulo base almeno al momento del suo campo basso. Dubbio tra i pali da valutare se il tecnico opterà per il giovane guadagno oppure per l'esperto forte, una condizione che riguarda strettamente anche le vicende del minutaggio. Non dovrebbero esserci sorprese in difesa a centrocampo, con la conferma degli stessi giocatori visti a Giuliano. A tal proposito è lecito attendersi un passo in avanti da parte di Sonni D'Angelo, a parte in ritardo nell'uscita di Coppa Italia. Potrebbe cambiare qualcosa in attacco, dove Di Nardo, Fagioli e Forte sono in lizza per due maglie da titolare. Il gol manca sicuramente agli avanti rosso-blu, che nelle quattro gare giocate tra amichevoli e Coppa non hanno timbrato il cartellino. Quale occasione migliore per sbloccarsi, magari nella prima uscita che sancisce il ritorno del campo basso nel torneo di Lega Pro?